Sono imminenti le festività natalizie anche quest'anno nonostante la crisi, sono tanti cittadini di Tolentino e delle città limitrofe che hanno scelto di non rinunciare a fare i classici regali di Natale, magari diminuendo un po' il budget di spesa. Siamo andati quindi in giro a chiedere quale è stata la cifra destinata appunto a fare i regali di questo Natale 2014. Quanto ha speso quest'anno per fare i regali di Natale? Praticamente niente ancora, è tutto ancora da meditare e comprare. Cosa farà? Regali utili? Il regalo è sempre utile nel senso che è simbolico, quindi va bene. Qual è stato il budget che avete speso quest'anno per fare i regali? Zero euro. Ha preferito quindi usare questi soldi per altro? Sì, per mio figlio. E lei invece quanto ha speso per i regali? No, ho speso, visto che sono disoccupata, 20 euro. C'è qualcuno che ama ritornare durante le festività natalizie qui a Tolentino come il signore? Noi sarebbero gli ultimi 30 anni, 25 anni che torniamo qui tutti i Natali. Quando lavoravo non c'avevo tempo, venivo una volta l'anno per tre settimane. Poi adesso che sono in pensione veniamo spesso, anche due, tre volte. Abbiamo avuto un paio di comunioni recentemente, ci siamo venuti tre volte quest'anno. Dall'Inghilterra. E cosa avete deciso di regalare quest'anno per Natale? St'anno regaliamoci, abbiamo portato veramente i regali per la famiglia. Abbiamo molti pronipoti, nipoti.